Ciao a tutti, sono Andrea Natoli, kinesiologo, istruttore, nonché atleta di ginnastica artistica. Oggi vediamo quelli che sono, secondo me, i 10 migliori esercizi per allenare da casa i lombari. Per lombari intendiamo la parte posteriore del core, dunque muscoli lombari, quadrato dei lombi, paravertebrali, eccetera. Il tutto senza attrezzatura, semplicemente a corpo libero. Pronti? Andiamo! Pronti? 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 Bella raga, questo è tutto. Negli esercizi appena visti non è stato definito nessun parametro allenante, quali ad esempio il numero di serie, di ripetizioni, la durata, l'intensità, poi i recuperi, eccetera. Quindi per sapere come sfruttare questi esercizi e rendere davvero produttivo il tuo allenamento, clicca sul link in descrizione, accedi alla mia pagina ufficiale e scopri come allenarti al meglio in base alle tue esigenze. Qui potrai prenotare la tua consulenza gratuita dove riceverai le prime direttive per strutturare una programmazione efficace in funzione dei tuoi obiettivi. Yes man, see you there! Grazie a tutti!